Rino Danielli, direttore sportivo del Cattolica San Giovanni Marignano. Bene, oggi sembrava che allo Stadio Calbi potessero entrare un po' di abbonati, di tifosi, una quarantina, ma all'ultimo momento la questura ha dato il no apertura a porte e quindi possono partecipare solo le due squadre, quindi senza pubblico. Esatto, la situazione è paradossale perché ieri avevamo l'ordine di giocare a porte aperte, poi è arrivato l'ordine, il controordine di giocare a porte chiuse, poi quello di eventualmente fare entrare solo gli abbonati, cioè non si può andare avanti così, soprattutto in un girone dove ci sono delle toscane, noi domenica abbiamo giocato contro la squadra toscana dove lo stadio era aperto, quindi oltre che essere, secondo me, disequilibrato, perché ovviamente delle squadre, tipo quella che incontriamo oggi, è una squadra già attrezzata, con un budget importante, se poi andiamo a giocare da loro e hanno pure il pubblico che li dà la mano, capisci che diventa una cosa, secondo me, con poco equilibrio. C'è poca confusione, no, molta confusione, c'è poca chiarezza. L'unica forza è che voi, Rimini, San Maurese, facciate una petizione agli organi competenti, ovviamente alla federazione e alla regione, visto che c'è la delibera Bonaccini, che consente mille ingressi agli stadi, se ovviamente hanno la capienza, per poter avere un chiarimento, perché così il campionato è un po' falsato. Assolutamente sì, noi facevamo fede ad un'ordinanza di agosto, sembrerebbe che adesso sia stata disattesa, quindi sì, adesso c'è bisogno di chiarezza, perché è impossibile che uno si svegli la mattina, che sia la questura, che sia l'aslo, che sia chi per esso e prende una decisione così importante. Ci fa chiarezza, e spesso in Italia questo non c'è. Dovrebbe essere uguale per tutti, in tutto il territorio nazionale, che in Toscana oppure in provincia di Bologna si faccia entrare il pubblico e qua no. Le regole dovrebbero valere per tutti e dovrebbero essere uguali. Assolutamente sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E ancora maggiormente nello stesso girone, perché ovviamente noi qui abbiamo, come ho detto, tre squadre toscane, che purtroppo non rientrano in questo dispositivo, cioè quindi che ci facciano capire qualcosa, perché veramente non ci capiamo più niente. Questa è la prima partita in casa, con una squadra forte, che ha un budget potente. Ecco, cosa vi aspettate da questo esordio in casa? Ecco, noi sapevamo che avevamo un trittico molto molto difficile, perché abbiamo giocato appunto domenica con una squadra che secondo me lotterà ai vertici. Questa qui di oggi, conosco molti giocatori, è una squadra importante, che secondo me se la giocherà fino alla fine per vincere il campionato. E poi avremo domenica, non dimentichiamoci, anche Firenzuola, che comunque sono anni che sta lottando ai vertici del campionato, e quindi anche quella sarà dura. Noi oggi cosa mi devo aspettare? Mi devo aspettare che la squadra si applichi nella stessa maniera che si è applicata domenica scorsa, perché io lì veramente mi aspettavo un minimo, un punto, e quindi che giochi con la stessa determinazione, con la stessa voglia. Noi qualità ce l'abbiamo, soprattutto nei giovani, quindi io comunque sono dell'idea che le partite vanno giocate. Certo, loro hanno una squadra forte e non si sono neanche nascosti, perché ho fatto due chiacchiere con il direttore e con il presidente, loro hanno dichiarato che vogliono vincere il campionato, e quindi noi rimetteremo il bastone tra le ruote finché possiamo. Allora, in bocca al lupo, speriamo al termine di questa partita di poter fare dei sorrisi. Speriamo, speriamo. Un saluto a tutti, grazie.